Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. No, non sono impazzito perché ultimamente mia moglie mi ha fatto non riscoprire, scoprire del tutto la passione per Harry Potter perché io in 40 anni di vita, ammetto, l'avevo sempre un po' evitato credendolo qualcosa con una lore magari troppo da ragazzini e non potevo sbagliarmi di più e mi ci sto appassionando veramente da morire. Oggi vi presento questo piccolo set della Lego di Harry Potter e ve ne parlo a breve dopo la sigla. In questo piccolo set di Harry Potter del costo di 39,99 è veramente interessante perché troviamo all'interno Ron Hermione e la professoressa McGrennit o se prendiamo i romanzi McGonagall e la stanza di trasfigurazione ed è veramente molto bellino, ci ha attirato subito lo sguardo e la vista, poi nel frattempo vi faccio vedere un po' il montaggio e tutto quanto mentre vi ci parlo perché abbiamo visto questa cosa piccolina e carina a forma di libro per le quattro stanze principali. Infatti questo set è diviso in quattro, come vi faremo vedere nel corso del video ed è veramente interessante perché ogni volta si trovano nuovi personaggi, qui ad esempio ci sono come vi ho detto Ron e Hermione e nuovi professori perché in questo caso c'è la McGonagall, però in altri set troveremo altri professori come ad esempio il professor Piton ed è interessante perché sono bellini, sono dei libri fatti totalmente con Lego e una volta collezionati tutti quanti li metterete accanto tipo nella vostra libreria ed è veramente molto carino ma poi si vanno ad aprire, quindi vedendolo da qui è semplicemente un libro ma si va ad aprire tutto quanto a comporre e diventa proprio una stanza di lezioni perché all'interno ci c'è anche il tavolino, magari i vari alambicchi, le sedie, magari uno scrigno o direttamente la cattedra del professore, magari il banco degli alunni è veramente bellino bellino perché lo vedete così piccolo davanti ma una volta aperto diventa una cosa del genere ed è veramente veramente carino da morire e non ve lo nascondo, ci piacerebbe da morire costruire tutto il castello di Hogwarts ragazzi è tipo alto così, la torre più alta è così cioè prende tutto il tavolo, tutto il tavolo ed è alto così soltanto la torre quella dell'astronomia è alta veramente, io penso una cosa del genere e forse suggerisce mia moglie anche di più e ci calberebbe veramente da morire iniziare a collezionare queste cose lo dico onestamente senza vergognarmene sono stato un po' un biscro come diciamo dalle nostre parti perché l'ho sempre evitato considerandolo qualcosa da ragazzini il mago con la bacchetta, vedi Gandalf sul ponte delle miniere di Moria che combatte un barrog da solo e non ha bacchette in mano dopo di quello dici cioè non ci potrebbe essere nient'altro di scontro magico per eccellenza oppure contro il re stregone di Minas Morgul e invece anche la lore di Harry Potter è disumanamente bella senza contare poi tutto quello che ci ruota anche intorno a livello di prequel e quant'altro ad esempio creature fantastiche dove trovarle che poi sono stati fatti sia la serie di film che anche direttamente il il o i romanzi e qualcos'altro sta venendo scritto anche di nuovo ho visto quindi è veramente molto interessante in un set ragazzi veramente molto carino se dovete fare un regalo a vostro figlio o dovete farvi anche un regalo a voi stessi perché vi piace veramente tanto la saga di Harry Potter e adorate il lego soprattutto che è la cosa più importante prendetelo perché è veramente ragazzi bellino molto 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 interessante e come detto è uno spettacolo vedere questo libricino così piccolo che messo in una libreria attiene anche lo sguardo perché fondamentalmente si vede che è fatto di lego però è anche bello colorato e aprirlo poi si snoda tutto e all'interno c'è una stanza grande così e poi per 29 euro e 99 centesimi e tra l'altro c'è anche un'offerta su Amazon si trova anche a 26 volendo è veramente un bel regalo anche da fare un compleanno per Natale ciao a tutti ragazzi alla prossima ciao a tutti